Un altro Best Buy in casa Samsung? Sì, questo Samsung Galaxy A55 è indubbiamente il Best Buy di fine 2024 perché con appena 300 euro circa, con la offerta giusta, magari anche qualche eurino in meno, mi metterò magari qualche link in descrizione, nei box dei commenti, magari a qualche offerta disponibile attualmente su Amazon, ci si porta a casa uno smartphone completo con una costruzione premium. Parliamo di uno smartphone da 210 grammi, il peso è giusto se consideriamo che abbiamo metallo, abbiamo un frame appunto che è interamente senza parti in plastica, abbiamo un vetro sia all'anteriore che al posteriore in Corning Gorilla Glass Victus, quindi resistente a urti, graffi, piccoli inconvenienti che possano avvenire magari se lo mettiamo all'interno del bracciolo dell'auto, nella borsa o in tasca, magari abbiamo anche delle chiavi, sarà difficile danneggiarlo e graffiarlo. Lui ha un 6,6 pollici come pannello e con una luminosità di picco, quando è colpito dalla luce diretta del sole, da millenitz assicura una visuale perfetta anche se siamo all'esterno e in estate. È un dispositivo che grazie al processore Octa-Core raggiunge velocità elevate e frequenze da 2800 MHz, quindi riesce a gestire applicazioni complesse anche quindi col gaming e tutto questo è coadiuvato da una batteria da 5000 mAh, che gli permette quindi di resistere a tutte queste caratteristiche da velocità senza però rinunciare all'autonomia. Non abbiamo quindi alle 14, le 15 di metà pomeriggio l'ansia di doverlo ricaricare a una presa della corrente perché riesce appunto, grazie alla sua capiente batteria, a reggere bene per tutta l'intera giornata. I colori, è inutile dire che sono brillanti, parliamo di un display AMOLED di casa Samsung, ormai ci ha abituata ad una resa cromatica veramente pazzesca. Se vediamo dalle immagini abbiamo a che fare proprio con dei colori nitidi e brillanti. Un dispositivo quindi curato in ogni minimo dettaglio, dalla costruzione al feed della vibrazione, sì perché il motorino di Samsung, quando ad esempio andiamo a digitare un messaggio, quindi ad ogni tasto che premiamo nel display, il tocco, la restituzione del feedback è qualcosa di gradevole. Tutte cose che per alcuni possano sembrare in secondo piano non rilevanti, ma che vi assicuro quando ci si abitua a questo tipo di qualità, a questo tipo di accuratezza, nei piccoli dettagli, quelli che per altri sono solo dettagli, beh si torna veramente male, male indietro. Parliamo di mille nizi in esterna, come vediamo dalle immagini lo si riesce a leggere praticamente in ogni circostanza, non ci sono problemi nella visualizzazione e una velocità nel passare, nel menu, nello scrollare, molto fluida, grazie anche ovviamente ai 120 Hz di refresh rate. Il retro, in questa colorazione scura, non è diciamo ovviamente sgargiante, ma è una colorazione classica, ci sono vari colori che Samsung offre appunto su questo Galaxy A55, e qui sta ognuno di noi, no? In base alla preferenza, scegliere quel che più gli piace. Queste tre fotocamere disegnate tutte e tre uguali, quindi non abbiamo un'estetica dove abbiamo una fotocamera più piccola, una fotocamera più grande, è uno stile di design nella scelta veramente che si apprezza, perché è molto gradevole. Questo schermo che riesce ad arrivare praticamente con bordi molto, molto sottili e alla presa questo mattoncino perché è veramente squadrato, un po' il design che ormai Apple ha ridisegnato da anni e al quale tutti i produttori poi si sono accodati perché sappiamo benissimo che quando Apple decide di cambiare la moda in quel momento di un design anche di un telefono, poi alla fine diventa un po' la regola per tutti gli altri, quindi ovvio che gli si debba andare dietro. Bellina anche la disposizione del flash in questa posizione che è molto gradevole. Type-C per ricaricare e trasferimento dei dati ovviamente nella parte sottostante al telefono, che dà la possibilità di ricaricare il telefono anche in modalità wireless e un design che praticamente non viene mai a noia. Chi è amante degli smartphone avrà visto subito che il frame ricorda molto il Samsung Galaxy Alpha di tanto tempo fa. È più quadrato, è più a mattoncino, ma il design è veramente simile per quanto riguarda il frame. Avere un dispositivo oggi così completo con circa 300 euro, lascerò qualche link in descrizione a qualche offerta in corso, con anche la certificazione IP67 non è affatto scontato perché ci troviamo davanti con un dispositivo che è resistente a spruzzi, a polvere, acqua. Se siamo al ristorante, a tavola, in cucina, appoggiamo il telefono su un tavolo e ci casca accidentalmente un bicchiere d'acqua, non succede niente, cosa che non possiamo dire di tutti i telefoni. Quindi uno smartphone completo che può veramente essere adatto alle esigenze praticamente di quasi ognuno di noi. Fatemi sapere la vostra sul dispositivo, soprattutto se lo state prendendo in considerazione, il perché vi piace. Se lo avete scrivete qui nei commenti, condividete la vostra esperienza di come vi state trovando e quindi se è un acquisto sensato o meno. E come sempre ci ritroviamo su questo canale con altri video interessanti e altre analisi di vari smartphone e quindi se non l'avete fatto per non perdervi i video futuri attivate la campanella effettuando un'iscrizione al canale, tanto per voi è gratuita. Come sempre, ciao al prossimo video. Ciao a tutti.